Da aprile chiamare da casa con il telefono fisso costerà almeno il doppio e quanto prevede la nuova manovra tarifaria di Team, marchio sotto il quale Telecom commercializza ora anche la telefonia fissa, una manovra che reintroduce anche lo scatto alla risposta. Gli aumenti interesseranno le tasche di circa 700.000 famiglie che hanno solo la linea di base e non hanno aderito alle offerte a forfè, ovvero tutto compreso. I rincari scatteranno appunto il primo di aprile, così il prezzo delle chiamate a consumo verso i telefoni fissi e i cellulari nazionali dell'offerta a voce della linea ISDN passerà da 10 a 20 centesimi al minuto e per ogni chiamata verrà anche reintrodotto lo scatto alla risposta pari a 20 centesimi di euro. Invariato invece il canone mensile a 19 euro e mantenuti anche alcuni sconti. L'anno scorso Telecom propose ai clienti di optare per una tariffa telefonica tutto compreso, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni però intervenne per indurre la compagnia telefonica a fornire più tempo per scegliere più informazioni. Per Telecom l'obiettivo è di far evolvere chi spende parecchio per telefonare verso le offerte di tipo flat, cioè non legate al consumo. Secondo Feder Consumatore invece si vogliono obbligare i clienti a passare ad un contratto che pur avendo chiamate illimitate è più dispendioso. Con questi rincari, aggiunge l'associazione, vengono colpite le fasce più deboli, tra cui gli anziani e chi ha un reddito pari o inferiore alla soglia di povertà e che per età, cultura o assenza di infrastrutture non possono utilizzare mezzi più tecnologici per comunicare.